Ma ieri ho scritto a Steve Masalari, lo conoscete? Dio Bono, è un grande Steve. Steve era una storia, io lo conosco da quando era... Me lo porti qui? Sì, ti do il numero, bravo, Steve è un bravo ragazzo. Un ragazzo che è cresciuto in una famiglia provinciale di paese, il padre ha avuto per anni e anni le discoteche più importanti d'Italia, quindi grossi, enormi patrimoni economici. Comunque lui ha sempre fatto la bella vita, ma è sempre stato un ragazzo serio, che ha lavorato. Oggi il padre è morto, gli ha lasciato l'impero, ma ha saputo con delle nuove idee generazionali, come l'innovazione che ha fatto con i cantanti, nella discoteca, lo spazio aperto che ha fatto, questa catena che ha fatto condonato sull'onda dell'antico vinaio. L'antico vinaio è un esempio di come attraverso un'idea creativa nuova te puoi arrivare a fatturare milioni e milioni e milioni trovando l'imprenditore giustice.